Dopo un irripetibile 2017 è stato presentato a Milano il calendario 2018 dello Yacht Club Costa Smeralda. Lo scorso honor è stato celebrato il suo cinquantesimo anniversario, 20 regate tra cui tre campionati del mondo. Per la stagione 2018 si parte il 23 aprile con la regata dell'Accademia Navale Italiana e si chiuderà il 27 settembre con l'Audi Italian Sailing League Final. There is no planet B, ha detto Paul Cagliard, belista d'eccellenza e testimonial della fondazione One Ocean, presentata anche questa a Milano. Il progetto di portata globale, partendo dalla costa Smeralda, intende diffondersi nel mondo per combattere l'inquinamento degli oceani. La certa Smeralda, la carta dei mari voluta dalla principessa Zaraga Khan, diventa così strumento concreto a tutela della sostenibilità degli oceani. Previsti educational nelle scuole, iniziative internazionali, coinvolgimento sia del WWF e di altre associazioni ambientaliste, sia degli Yacht Club Italia, riguardo alla salvaguardia dei mari. Oggi tutti parlano di sostenibilità, ha detto Zaraga Khan. Noi tentiamo di tradurre questa disponibilità in termini concreti.